Benvenuti, appassionati di sport, a Top Sport News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie dal mondo sportivo. Oggi vi portiamo una bomba di notizia che sta scuotendo il panorama calcistico internazionale. Ma prima di entrare nei dettagli, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le emozionanti novità sportive. L'Inter è pronta a puntare in alto e ha messo nel mirino un talento davvero promettente. Stiamo parlando del difensore del Barcellona, Eric Garcia, che, a soli 22 anni, è già un nome che risuona nell'ambiente calcistico. Le voci di mercato indicano che Garcia potrebbe essere sulla soglia di un trasferimento esplosivo che cambierà le «carte in tavola». Il giovane difensore è destinato a diventare protagonista di una trattativa, che promette di scuotere il mercato. Secondo il rispettabile quotidiano spagnolo sport, l'Inter ha messo gli occhi su Garcia per rinforzare la propria difesa. Dopo il secondo posto in Champions League, e con la partenza imminente di Milan Skriniar, che difenderà i colori del Paris Saint-Germain, l'Inter è alla ricerca di nuovi elementi per consolidare il proprio cast. Le voci suggeriscono che i dirigenti dell'Inter abbiano già avviato i contatti con il Barcellona per sondare le «possibilità di una trattativa». Le indiscrezioni rivelano che il primo approccio è stato estremamente positivo, aumentando così l'entusiasmo intorno a questa possibile acquisizione. Ma c'è di più, Eric Garcia è un autentico prodotto della cantera del Barcellona. Dopo quattro anni nelle giovanili e nei professionisti, è tornato al club nel 2021 con una clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Questo giovane difensore è uno dei gioielli più ambiti sul mercato e il suo nome brilla sul radar dell'Inter. Ora vogliamo sapere la vostra opinione, cari fan, cosa ne pensate di questo possibile trasferimento di Eric Garcia all'Inter. Ritenete che il Barcellona cederà di fronte a un'offerta irresistibile? Condividete la vostra opinione nei commenti, e partecipate a questa discussione su una delle trattative più scottanti del momento. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli e sviluppi, continuate a seguirci su Top Sport News per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. Non dimenticate di lasciare un like se questa notizia vi ha appassionato, e ci vediamo alla prossima emozionante aggiornamento.